Ancora una volta oggi in Consiglio regionale, dopo aver ripetuto a squarciagola più volte e rivendicato la presenza del Presidente Marsiglio, assistiamo ancora una volta all'assenza del Presidente, che nonostante oggi era presente all'Aquila, si è fatto vedere poco o quasi per niente in Consiglio regionale. Tra l'altro poi abbiamo assistito ad interventi come quello del collega Di Matteo, il collega che ha fatto un intervento pieno di astio, francamente sfuggono anche le motivazioni di tale tono. Prendiamo atto che il collega Di Matteo ha commissariato il capogruppo della Lega, perché ormai parla e conduce lui su tutte le operazioni. Allo stesso tempo in conferenza capigruppo sulla questione del Ciapi abbiamo assistito alla dichiarazione dell'assessore Febbo che ha detto che la sua stessa maggioranza ha votato in giunta qualcosa che lui non condivide, che quindi è contrariato. Insomma siamo di fronte al solito teatrino dove ci sono più maggioranze, dove non si capisce chi comanda e durante tutto il Consiglio regionale il numero legale più volte è venuto a mancare. Purtroppo a rimetterci sono sempre i cittadini.